ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati su recensioni di bellezza oggi sono qui per una video recensione e sono stata contattata dalla Iraq per testare un loro prodotto e quindi sono qui per parlarvene il prodotto in questione è il siero premium lacour absolute anti aging questo prodotto molto molto interessante dunque è un prodotto che all'interno ha una serie di principi attivi molto particolari veramente di difficile anche diciamo reperibilità nel senso che non sono molte le aziende che io conosca almeno che all'interno hanno questa serie di principi attivi altamente tecnologici e innovativi a livello cosmetico vi lascio quindi intanto a un video applicazione e ci rivediamo subito dopo per parlare più dettagliatamente di questo siero a dopo ciao ragazze e ciao ragazzi e sto per farvi vedere il prodotto che mi è stato inviato dall'azienda all'Iraq scusate il riflesso ma la scatola come vedete è molto molto riflettente si presente in questo modo quindi è molto anche elegante ve ne parlerò più dettagliatamente nel video appunto in cui vi parlo appunto nello specifico del prodotto si presenta anche con questo questa sorta di libretto in cui appunto viene spiegata la linea diciamo tutti i prodotti della linea premium e che appunto fanno parte di cui fa parte anche questo prodotto qui che è premium lacour anti age absolute eccolo qui quindi si presenta in questo modo vediamo se riesco a farvelo vedere sì credo di sì quindi vedete a queste tutte queste micro bollicine all'interno questo è il prodotto che io poi sono andata effettivamente utilizzare quindi dal momento in cui mi è arrivato e anche nel packaging esterno devo dire che esprime tutta la sua preziosità ed eleganza e si diciamo si preleva attraverso questo erogatore e niente adesso vi faccio vedere intanto io ho già applicato la mia crema contorno occhi e quindi vado ad applicare questo che è un siero quindi un siero da mettere prima della crema e scusate io faccio sempre così perché questo essendo appunto ricco di sostanze altamente tecnologica anche a livello cosmetico e con ingredienti molto preziosi deve stare appunto a contatto direttamente con la pelle e quindi io lo voglio per dare un effetto potenziato re nel libricino c'è anche scritto che sarebbe consigliabile fare dei trattamenti dei cicli quindi un paio di volte l'anno due tre volte l'anno dipende appunto da come sta messa la vostra pelle il profumo è pazzesco e adesso vi faccio vedere anche la consistenza eccola qui la consistenza è un olio gel ecco qui quindi la spalmo esattamente come un qualsiasi altro siero il profumo ragazze è pazzesco c'è un profumo floreale molto molto delicato io lo applico anche sul collo e questa sensazione di olio gel è molto confortevole perché crea una sorta di emulsione che non è affatto grassa e che da subito un effetto invece rimpolpante devo dire che l'applicazione è velocissima perché praticamente il prodotto è già assorbito io lo posso lasciare in posa qualche minuto prima di andare ad applicare la crema ma vi assicuro che il prodotto è già tutto assorbito quindi la diciamo la facilità di applicazione sicuramente un qualcosa in più perché non necessita soprattutto se lo applicate la mattina di dover andare a massaggiare lungamente io vi consiglio anche l'applicazione serale perché chiaramente ne prendo un altro pochino giusto per il la fronte io ne consiglio anche l'applicazione serale perché così fate un trattamento solitamente è di 28 giorni e che appunto potete poi appunto vedere effettivamente dei risultati tangibili il primo risultato è sicuramente quello di vedere la pelle molto più compatta proprio da un effetto di compattezza quasi istantaneo e anche di luminosità quindi che vi posso dire questo è sicuramente un trattamento che io consiglierei alle over 50 perché può darsi che tra le over 40 non vediate questo risultato diciamo in maniera così evidente però vi assicuro che applicandolo giorno dopo giorno vi accorgerete non applicando le sentirete la pelle che una bella differenza vi lascio ai commenti del in cui vi spiega appunto tutto i nel dettaglio il prodotto ciao ragazze buona giornata eccomi qua ragazze quindi avete visto come è l'effetto e come risulta il siero il viso dopo l'applicazione dunque questa questo prodotto è appunto un prodotto made in france ed è un diciamo trattamento che dura 28 giorni infatti qui c'è scritto che appunto è per 28 giorni quindi ci fa capire che è un prodotto da usare a cicli due o tre volte l'anno così almeno è specificato all'interno del sito che io ho dettagliatamente controllato perché insomma è molto sono molto ben specificati tutte le caratteristiche di questo prodotto all'interno abbiamo anche questo libricino dove sono spiegate in diverse lingue tra cui anche l'italiano ecco il diamo un po spagnolo eccolo qui sì in diverse lingue appunto come vi dicevo il diciamo la linea premium in questo caso si tratta del siero siero booster quindi ispirato alle ricerche fondamentali sull'enzima della longevità e ma su questo ci ritorniamo ci ritorniamo perché vi spiegherò proprio nel dettaglio quali sono questi attivi così altamente tecnologici il prodotto si presenta in questo modo quindi potete vedere che ne usato ben po quindi sono ormai più che pronta per darvi una recensione e già forse lo potete notare che all'interno ci sono tutte queste micro bollicine si sono proprio delle micro bollicine sono le molecole di acido ialuronico micro incapsulato e che appunto sono all'interno di questo diciamo come posso dire di questo olio gel allora voglio farvelo anche vedere così vi mostro poi qui sulla mano come anche un pochino la consistenza ecco qua quindi proprio sembra quasi un po se riesco a far vedere vedere sì una sorta di olio gel si crea quasi un emulsione e si assorbe in maniera molto rapida ma non così rapida non fare un lieve massaggio sicuramente dopo questo massaggio la pelle è pronta per essere truccata quindi potreste anche utilizzare direttamente solo il siero perché vedete la pelle appare luminosa e molto ben idratata però non avete una sensazione come di un tu sita oleosità perché questo effetto adesso la pelle è asciutta guardate appare anche quasi subito come ed è veramente un effetto molto bello allora quali sono però veniamo al dunque di questa recensione quali sono questi principi attivi ebbene si ispira su un principio attivo di cui è stata fatta una ricerca nelle università delle away dei ricercatori sono riuscite a individuare il gene della longevità in alcuni soggetti particolarmente appunto longevi sono stati ritrovati io ho qui il mio padernino magico infatti tutto sbrilluccicoso ok eccolo qui dove appunto sono stati fatte delle ricerche appunto sulla sul rinnovamento cellulare e si è visto che questa proteina che si chiama la proteina fox appunto è particolarmente attiva nei soggetti appunto più longevi praticamente cosa succede che questa proteina che viene appunto chiamata la proteina dell'immortalità è direttamente collegata ai processi di invecchiamento quindi abbiamo da una parte questa proteina in cui appunto la diciamo l'Alierac ha poi trovato un diciamo sostituto con cui appunto si simula l'azione della proteina fox ed è l'esapeptide fx che appunto simula l'azione della proteina fox ed insieme al ritrovato tecnologico GDF11 che favorisce e stimola il rinnovamento cellulare delle cellule senescenti la formula diventa particolarmente esplosiva direi proprio appunto che va questa tecnologia GDF e stimola la proteina dell'esopeptide fx inoltre all'interno sempre della formulazione è stata inserita la vitamina PP che è la niacimide che è un attivo cosmetico che ha delle spiccate proprietà anti-aging, rivitalizzanti, seporequilibranti, antinfiammatorie e questo acido ialuronico microincapsulato che quindi potenzia l'effetto anti-infiammatorio il tutto con all'interno degli estratti vegetali di fiori neri antiossidanti quindi parliamo di un prodotto molto particolare che diciamo come posso dire e anche sono ritrovati delle ultime ricerche a livello di cosmesi e infatti questo prodotto viene consigliato a cicli come vi dicevo di 28 giorni quindi io come vi ho già detto sulla recensione che ho lasciato lo consiglio durante i periodi di ricambi di stagione quindi in primavera e in autunno proprio per aiutare questo rinnovamento cellulare e lo consiglio soprattutto alle donne over 50 perché su di me l'effetto l'ho visto nel senso che tra metterlo e non metterlo c'è una netta differenza ma per esempio mia mamma che è una donna con una pelle over 60 ha notato immediatamente un effetto rimpolpante del viso, della pelle più elastica, quasi mi ha detto ma sente il bisogno di applicarci sopra una crema e infatti per esempio potrebbe essere un'ottima base questa per diciamo la skin care estiva io come vedete l'ho usato veramente un bel po' e devo dire che sono fa molte differenze ripeto il metterlo e non metterlo perché l'effetto idratante è molto persistente soprattutto nonostante ripeto la pelle sia completamente asciutta si sente proprio un livello di idratazione molto profonda quindi cosa vi posso aggiungere altro è sicuramente un prodotto molto innovativo, prezioso, particolare e vi consiglio di provarlo nel senso dategli un'opportunità perché questo secondo me è qualcosa che può fare la differenza all'interno di una skin care che magari ha prodotti molto di base ma si vuole puntare su qualcosa che va appunto a darci un qualcosa in più durante determinati periodi dell'anno tutti un po' sappiamo che nel periodo dei cambi di stagione abbiamo un po' la pelle un po' più spenta un po' ingrigita il colorito non sta proprio al massimo quindi tutte queste sostanze che vanno proprio a promuovere il rinnovamento stimolano proprio l'effetto di ricambio cellulare sono sicuramente d'aiuto più di una semplice crema idratante quindi io questo ve lo consiglio come appunto trattamento da fare in determinati mi sto strozzando da fare in determinati periodi allora ragazze nel ringraziare ancora l'Iraq per avermi permesso di testare questo loro prodotto vi ricordo appunto che c'è una recensione molto dettagliata su questo prodotto in particolare che vi lascerò in descrizione e niente insomma io ringrazio moltissimo l'Iraq spero che sia l'inizio di una lunga collaborazione e niente spero che questa video recensione video applicazione vi abbia fatto piacere e anche per conoscere meglio questo prodotto a presto con altre recensioni di bellezza ciao